Anche a Rimini il tema dei profughi resta molto caldo, soprattutto in virtù del boom di arrivi. Se poi si considera il binomio profughi-alberghi, allora la questione si fa veramente seria. Lo sa bene Patrizia Rinaldis, la presidente dell'associazione albergatori, che non tollera più che le regole vengano violate da più alberghi furbetti. Una situazione incandescente che riguarda anche il discorso della capienza e del riscaldamento, viste le temperature sempre più in diminuzione. Il problema che emerge in questo momento è che comunque queste strutture alberghiere non hanno le stesse regole di tutti gli altri alberghi. C'è stato il caso dell'Evelyn, che era sulle cronache dei giornali. Hanno una recettività, è struttura recettiva, 43 posti letto, 70 profughi. Non so se ci sono dispense particolari, ho fatto una provocazione, allora allarghiamola a tutti quelli che prendono gruppi a prezzi ben inferiori. Altre strutture sono prive addirittura di riscaldamento. A questo punto il problema non è tanto chi le prende. Il problema è che i profughi non devono essere in fascia turistica, perché creano comunque un danno d'immagine a chi lavora correttamente. Quindi quale potrebbe essere la soluzione? Io credo che una soluzione non sia facile, però io ritorno col discorso, rimettiamo in discussione, visto che è già stato fatto, eventualmente le caserme. Qui però bisogna un'operazione di forza col Ministero dell'Interno. Perché molti si prendono questi profughi? Ci sono dei soldi comunque in ballo? Cioè ricevono del denaro? Io l'ho detto, in alcuni casi è soltanto un business. Una di queste strutture ha molti alberghi in giro per l'Italia, destinati proprio a questo. Non reputo che sia corretto dal punto di vista umano ospitarli nell'albergo, ma andiamo a colpire uno dei settori più forti della nostra economia, che è il turismo. E andiamo in qualche modo contro chi invece rispetta le regole e con enorme fatica porta avanti il proprio lavoro.